ma che cazzo di colla ha fatto l'ha presa perfettamente si è infilata sotto l'incrocio dei pali e il portiere provvede provvede non ha potuto nulla altro che provvede hi this is Gaberman a youtuber con una cosa di quelle che oggi magari mi sto arrivando e sto sentindo un po' di cose c'è siamo tornati con questo nuovo video perché attualmente la Juventus sta vincendo uno a due contro l'Empoli mancano un paio di minuti ma non vorrei gufarla ma non credo cambierà il risultato e permettetemi di fare i complimenti e un applauso all'Empoli per il primo tempo che ha tirato fuori ha fatto una prestazione di quelle incredibili probabilmente ha approfittato dell'impegno infrasettimanale da parte proprio dei bianconeri in Champions League che sicuramente insomma sono andati a Manchester hanno sprecato forze l'Empoli però è stata una squadra sicuramente in grado di come dire non mi viene il termine di tenere testa la Juventus e anzi cioè nel primo tempo è passata in vantaggio a mio parere lo meritava assolutamente detto questo bel gol nel secondo tempo però la Juventus che ovviamente non è che sta prima in classifica così ha capito che che doveva cambiare modo di giocare ha capito che che se non avrebbe cambiato modo di giocare probabilmente l'Empoli gliene avrebbe fatto un altro nel secondo tempo è entrata in campo con con tutt'altro stato psicologico con con tutt'altro modo di giocare tant'è che ha cominciato a creare azioni su azioni e l'Empoli andando a memoria non ha praticamente creato nel secondo tempo c'è stata la bella azione alexandro bella parata dei provvedel e poi la traversa di Miralem Pjanic siccome io ho il tab sto a vederla sul tablet la partita ogni tanto la connessione mi cala e quindi sgrattugia e non vedo bene vedo un po' a quadrettoni non ho capito se l'ha toccata oppure se è andata direttamente sulla traversa riguardandola un paio di volte mi è sembrato che l'abbia toccata quel poco che bastasse per mandarla sulla traversa di lì a poco arriverà il calcio di rigore della Juventus ma prima di arrivarci hanno ricontrollato giustamente a mio parere andava ricontrollata un presunto fallo dei mani di Bonucci in area di rigore e Bonucci la tocca con la mano ma il braccio era attaccato al corpo poteva esserci qualche dubbio perché aveva l'altro braccio largo e guardando la velocità normale non si capiva se l'aveva toccata al braccio attaccato al corpo oppure a quello staccato riguardandola ragazzi è giusto che l'arbitro l'abbia riguardata a mio parere ma riguardandola ha toccato al braccio cioè non è che si può staccare il braccio quindi giusto che non sia stato dato il rigore sul rigore per la Juventus in tantissimi io sul web ho cominciato a leggere tutto ed è più subito si è scatenato il putiferio io vi dico che come ha detto il cronista Sky Ben Nasser diciamo che non è che ci è andato leggero è stata in area di rigore comunque una situazione un po' un po' particolare cioè è stato scompiglio non mi sarei meravigliato qualora non fosse stato fischiato rigore perché comunque se ne vedono tanti così e vengono e fischiati e non fischiati ma sinceramente non mi meraviglio neanche che glielo abbiano fischiato questi so falli so situazioni di gioco un po' particolari in area di rigore la prudenza non è mai troppa questo è quello che penso io poi ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti quindi Cristiano Ronaldo che sblocca la Juventus e gli permette di pareggiare ma poi ripeto qua si vede il campione qua si vede il fenomeno qua si vede quando sti 100 milioni di euro sono praticamente non ben spesi di più Matuidi gli emette una palla rapida come la vuole lui senza pensarci troppo ragazzi come ha fatto appena avvista la porta è partita una ciavatta che il portiere ancora sta a cercare ha fatto veramente un gol di quelli assurdi che consente alla Juventus di portarsi a casa tre punti incredibili permettetemi di dire che quest'Empoli ha pochissimi punti ma se l'è giocata viso aperto con tutte le squadre non è riuscita a raccogliere quanto ha seminato questo è quello che penso io perché comunque ragazzi in tante occasioni quest'anno l'Empoli finora doveva portarsi a casa qualche punto in più e purtroppo non c'è riuscita onore alla squadra di Andreazzoli ma tante squadre tante squadre là ad Empoli ci avranno veramente difficoltà ve lo posso assicurare perché questi giocano bene ci hanno paura di nessuno non gliene frega un cazzo detto questo fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto stasera post partita ovviamente anche di Torino-Fiorentina se non me sbaglio e poi per oggi basta detto questo alla prossima con un nuovo video Ergabbo ne vi saluta oh dovessero segnare 3 a 1 sti cazzi tanto stiamo là Juventus non vorrei gufarla e fu così che arrivò la tripletta di Ronaldo hi bella a tutti e fu così